Il titolo che hai messo, la risposta è, ma meno male, il fatto è che a due persone frega e questa roba mi fa girare il cazzo, dal titolo per me sembrare, questo è partito come titolo in cazzatura, non ho mai pensi che se non fai, la gente mi caga le mani, per un determinato argomento, ma fammi, ma perché non mi stai, perché non tieni la tua vita privata, privata, perché se non sei una vita privata, io racconto i cazzi miei alla gente, Però sono costretto a questo punto a farlo, un po' per il clickbait, un po' perché, ma cazzo, siccome mi chiedono, tipo, ah Fabio non hai la ragazza, ah Fabio non hai la ragazza perché giochi, io gioco, io gioco la ragazza, sì, questo succedeva nel 2000, adesso non è così, adesso pensate che chi gioca i videogames è considerato figo, quelli che indossano i capelli del cazzo non ancora, Allora, proprio piano piano ci arriveremo, allora, attualmente io non sono fidanzato, questo appunto, ma anche voi concretamente, alcuni mi dicono, Fabio ma sei fidanzato concretamente perché ho fatto un video concretamente, Dio buono, regà, cosa cazzo vuol dire, cioè, ma poi non ho un po' ruvito con un'altra persona e l'altro sesso perché vogliono stare insieme, ma Cristo santo, che la gente scrive nei commenti, ah, Fabio sta con mia moggina, ma che cazzo la conosce tua moggina? Quindi, faccio chiarezza una volta per tutte, se per caso io un giorno dovessi fidanzarmi, come sono diversi altri youtuber che giocano ai videogiochi, non lo direi comunque perché la mia vita privata è privata, diversamente da quando avevo iniziato a fare video, Perché quando ho iniziato io a fare video, ero fidanzato, ero fidanzato, perché la ragazza che conoscono i miei fan, quelli che mi seguono da più tempo, e quindi al tempo era una cosa pubblica. La domanda che sorge spontanea, mezzo mondo, perché si sente il dovere di chiederlo è, ma Fabio, ma dopo di lei sei stato mai con una ragazza? Va bene, si spontanea, ho quindi la vita privata un'altra volta. La risposta è sì, ok? Perché, essendo anch'io essere umano, succede, poi voi vi chiederete come faccio una sceglia di se indossisti i capelli, che fai veramente ridere, cazzo, quello non lo so, Ecco io, però, c'è anche da dire che quello che vedete è con la videocamera, non è quello che vedete, magari voi, dalla videocamera, magari le persone non ci arrivano, però vabbè. Quindi adesso ho aperto il discorso, e quindi facciamoci i cazzi miei fino alla fine, vi racconterò un po' com'è andata la mia situazione sentimentale, e sono veramente facendo questo video negli ultimi tempi. Allora, la prima ragazza la conoscete tutti, quindi lei la passiamo, e le altre ragazze con le quali sono state, per evitare di invadere la loro privacy, inventerò dei nomi fintizi. Dopo di Letta, che è stata la mia prima ragazza, sono stato con una ragazza di nome Gertude, che abitava a Milano. Io mi ero sfritto a Milano da poco, perché, o per registrare il film, o perché sono via di casa, perché mi pare essere un dipendente. E niente, per un paio di mesi sono stato con questa ragazza che era mia fan, sì l'ho detto, eeeh che bello, però aveva 24 anni. No, io non cliccherò mai questo video, se già mi sono registrato, non cliccherò mai. Poi sono partito per il Marocco, e stando lontano da casa, non ne sentivo tanto la mancanza. E questa cosa qua mi dava abbastanza fastidio, perché io quando sto con una persona, in genere, spero che quella persona riesca a trasmettere qualcosa, nel senso che quando non ci sto insieme mi manca, è una cosa che è importante. Quindi, se manca questo fattore, secondo me è una relazione funzionale, dal mio punto di vista. Questa è una mia caratteristica, io ho sempre parlato chiaramente con le persone, sempre. Quindi, glielo dissi, glielo dissi, però è sempre meglio essere sinceri, dare avanti una cosa nel tempo, e poi diventare una merda, perché non sei stato in grado di avere le palle e di dirmi. Quindi, mi lasciai a tempo con Gerard Cude, quando tornai a Milano, e lì il bel mantrillone che sono, inizio un'altra mia storia, che questa è bellissima come inizia, perché sembra la storia di un film. Perché questa ragazza con la quale sono stato, l'ho conosciuta,